C'è lasciato la consapevolezza di aver fatto una buona prestazione, che era il nostro obiettivo. Poi ovvio che c'è il dispiacere per non aver guadagnato i due punti, però io sono molto contento anche di come questa settimana le ragazze hanno affrontato l'allenamento. Speriamo che possiamo pensare e cominciare a lavorare sull'aspetto un po' più mentale, l'aspetto di mentalità per costruire una squadra sempre più forte. Ma è una partita non semplice, nel senso che loro sono una squadra che in attacco ha molti punti nelle mani, quindi noi dovremmo essere bravi, insisto sempre su questa roba qua di togliere i canestri fatti, cioè di non farle correre e di tenere uno contro uno, perché se possono loro cercheranno questo. E poi ovviamente nelle situazioni che hanno offensive essere pronti a fare ciò che abbiamo preparato. Grazie. Grazie. Grazie.